Il portale Tour 2016 è partito alla grande oggi da Palermo. Torniamo dopo quattro anni a Palermo, è un tour che con due giorni d'anticipo ha già totalizzato 10.000 iscritti, quindi siamo molto soddisfatti. L'insegnamento non si ferma mai, non si finisce mai di imparare e queste sono occasioni in cui si può imparare continuamente, anno dopo anno, come dimostrano tutte queste edizioni. La problematica energetica e ambientale è una problematica di carattere rivoluzionario. Dobbiamo cambiare il nostro modo di pensare, di fare e di operare. Ahimè purtroppo la qualità media del nostro parco edilizio non è eccellente. Ritengo che è un'esperienza molto utile, sia come formazione per quello che il professionista, che sempre di più vediamo, che è molte volte in difficoltà, perché si trova a dover cercare una soluzione ad un suo problema. Oggi si trovano delle soluzioni molto interessanti, basta saperle trovare, scegliere e utilizzare opportunamente. Forse dopo la conferenza di Parigi siamo arrivati a un punto in cui gli uomini smettono di parlare e cominciano a muoversi. Cosa ti aspetti da questa giornata? Ma sicuramente argomenti riguardanti materiali innovativi. Qualcosa che possa anche muovere l'edilizia, qualcosa che possa stimolare i professionisti nella loro attività professionale. Ho la seconda o la terza volta. Sono venuto sia a Catania, ma anche la volta scorsa qui a Padrello. Le altre volte è stato molto interessante, quindi sono tornato anche quest'anno. Il mio lavoro, quindi vediamo quali sono le novità. Il ruolo degli architetti credo che sia un ruolo importante in questa vicenda. Abbiamo visto tutti quanti come il panorama dell'architettura e dell'efficienza energetica in Italia sta cambiando. Che deve essere un elemento fondamentale per tutti i professionisti del settore legato alle costruzioni. Ad affrontare e risolvere i problemi del miglioramento della vita, il miglioramento della nostra qualità dell'abitare. Abbiamo deciso di ripartecipare nuovamente al portale tour per la grande visibilità che ci ha dato e per la possibilità che ci ha dato di far conoscere le nuove tecnologie che commercializziamo e produciamo. Come ho trovato il convegno? Molto, molto interessante. Interessantissimo. Ingradevole. Pieno di contenuti. Breve. È stato molto interessante. Conciso. Da rifare. Soddisfatto delle mie aspettative. È importante che si faccia informazione su questo. Dai temi attuali e soprattutto etici, quindi sicuramente come aggiornamento professionale ottimo. Un appuntamento fisso quando c'è. Se si ragiona bene nella scelta delle tecnologie più opportune, io credo che oggi se ne possano trovare sul mercato diverse, parecchie. Se non facciamo questo, ci limitiamo a dare dei piccolissimi aggiustamenti che non servono né a noi né soprattutto a quelli che verranno dopo di noi. Chissà che questo tour non sia quello celebrativo di un nuovo cambio di mentalità e di una nuova prospettiva per il futuro, per noi e per le nuove generazioni. Grazie a tutti.